Un buon debutto da mister, possiamo dire per Giuliano Di Giosio, collabori con Quattreni, ma poi in partita la responsabilità della squadra è tua. Sì, sono soddisfatto della prova della squadra, hanno avuto un'ottima intensità difensiva. Peccato il risultato, perché con un pizzico di fortuna in più forse l'avremmo potuta portare a termine con una vittoria. Loro hanno fatto due gol su due episodi fortunati, noi su due episodi sfortunati non siamo riusciti a fare il 4-3, però sono molto soddisfatto della squadra, penso di aver gestito bene i cambi. Comunque sì, la vittoria avrebbe cambiato poco dal punto di vista del passaggio del turno, perché comunque sì abbiamo il pareggio a nostro favore, anche al ritorno. e ripeto, questa esperienza è andata bene, speriamo di superare questo turno con questa squadra che è la nostra bestia nera. Che partita sarà quella di ritorno? Loro, secondo me, faranno una partita aggressiva, però non spareranno le loro cartucce tutte all'inizio. Come oggi, non sono venuti subito a prenderci come hanno fatto negli anni scorsi, perché magari cercheranno di arrivare al secondo tempo con il risultato in bilico per poter vincere, perché, ripeto, con il pareggio passiamo ancora noi, essendoci piazzati primi in classifica. Noi, se riusciamo a ripetere una partita così intensa a livello difensivo, come ho detto ai ragazzi prima della partita, penso di... ce la potremmo fare.